Di ritorno dall'Ucraina, di ritorno dalla bellissima città di Lviv, ovvero Leopoli, ovvero Lemberg, città di origine austro-ungarica, abbiamo continuato il nostro percorso attraversando tutta l'Ungheria, costeggiando il lato sud del lago Balaton, ci siamo diretti direttamente verso il confine con la Slovenia, confine che ovviamente non esiste più appartenendo sia l'Ungheria che la Slovenia all'Europa, quindi attraversando la piccola cittadina di Lenti, molto vicino al confine con la Slovenia, abbiamo attraversato questi bellissimi campi, suggestive strade, campestri ungheresi, siamo finalmente arrivati in Slovenia dove abbiamo preso l'autostrada e ci siamo fermati a visitare per qualche ora la città di Maribor, città molto bella, con palazzi sempre sul fiume Drava che la attraversa tutta, la Drava è una fluente del Danubio, palazzi bellezza di tipo austro-ungarico, con belle piazze, una vera città mito-europea, gente molto disponibile, simpatica e abbiamo anche mangiato molto bene. Arrivederci Maribor! Grazie a tutti!